Nulla si crea, nulla si distrugge, ma soprattutto nulla si butta e tutto si riutilizza o ricicla. E' con questa filosofia ormai portata avanti da anni che l'impianto di recupero AISA e di San Zeno ha aperto nuovamente le sue porte alla cittadinanza per la due giorni di zero spreco. Zero spreco è un qualcosa che cerca di restituire al territorio quello che la presenza di impianti complessi effettivamente a servizio del territorio stesso può pensare, perché questi sono impianti complessi, sono impianti che vengono condotti a norma di legge, sono impianti pubblici e sono diventate nel tempo centrali di recupero, quindi non più il vecchio inceneritore come lo conoscevamo una volta. Sono diventate centrali perché vanno a recuperare, secondo le indicazioni delle normative più recenti, vanno a recuperare la materia mettendo in posizione sussidiaria la fase dell'incenerimento che è sempre necessaria per processare gli scarti e ricavare l'energia. Nel corso della due giorni ovviamente non mancheranno momenti dedicati all'educazione, alla formazione, ma anche alla musica e alla solidarietà. Noi cerchiamo di educare, di far veicolare le informazioni basilari per evitare uno spreco alimentare. Si parte ai più piccoli, stamattina vi sono stati circa 400 ragazzi da Monte San Zavino, ad Arezzo, a Lucignano, che hanno partecipato alle nostre iniziative, hanno fatto ovviamente vari moduli didattici, mentre invece il pomeriggio è dedicato ai più grandi, agli adulti. Faremo un convegno dedicato ai rifiuti, in particolare a differenza tra i rifiuti sanitari e i rifiuti urbani, è dedicato infatti a ingegneri e a medici e professioni sanitarie. Stasera abbiamo una cena di beneficenza dedicata a chi si occupa delle categorie più deboli, e cioè Tevenin e Istituto Fossombronia. Domani voi vedete dietro alle mie spalle, voi vedete un palco. Non è organizzato da noi, ma prestiamo il terreno, questo prato verde, all'associazione music di Paco Mengozi, che ha chiesto ormai da cinque anni questo luogo per poter fare musica innovativa.